I video della rete girati dalle persone che si sono trovate in mezzo al temporale raccontano la violenza della bomba d'acqua che ha colpito la costa e l'immediato entroterra provocando ovunque danni e allagamenti. Queste sono le immagini del porto di Termoli con la scala a chiocciola diventata una cascata in pochi minuti. Tutta la zona era sommersa dall'acqua. Qui invece siamo all'imbocco del lungomare nord lungo la rampa che conduce ai Lidi. Mentre queste sono le immagini girate da un appartamento con un telefonino nella zona di difesa grande. Decine gli interventi dei vigili del fuoco partiti anche da Campobasso per aiutare le squadre di Termoli e Santa Croce di Magliano. Questa è l'auto nella quale è rimasta intrappolata una famiglia sul lungomare nord tirata fuori appena in tempo dai soccorritori. Il vento ha portato via cartelloni pubblicitari e il gazebo di un Lido finito sulla carreggiata in viale Cristoforo Colombo. Stesse scene a Campomarino in particolare a Lido dove dicono i residenti bastano poche gocce d'acqua per allagare interi quartieri. Nessuna manutenzione da parte del comune di scoli e tombini. Il violento nubifraggio ha colpito anche la zona di Nuova Cliternia dove in questi giorni gli agricoltori sono alle prese con la vendemmia e l'acqua ha danneggiato diversi ettari di vigneti, alberi caduti a Montenero e petacciato e temperature impicchiata ovunque. È stato il mese d'agosto più piovoso di sempre hanno già detto gli esperti che assicurano un allungamento dell'estate a settembre in questa pazza estate del 2018 e con tutti gli svarioni dei meteorologi c'è solo da augurarselo.